Tre mesi al Tocca T, a che punto siamo con l'organizzazione e cosa dobbiamo aspettarci quest'anno? L'organizzazione che lavora già da 6-7 mesi a questa edizione, stiamo lavorando per far ritornare la socialità sempre con la massima attenzione alla sicurezza sanitaria, per far ritornare comunque anche la dimensione internazionale. Quindi adesso non possiamo svelare più di tanto, perché siamo anche scaramantici prima delle dichiarazioni ufficiali che avverranno fra qualche mese, ritornerà una dimensione sicuramente di ospiti internazionali. Il Tocca T è anche in lista per l'UNESCO, per la candidatura a Buona Pratica. Qui a che punto siamo? La candidatura sta procedendo e c'è anche tanti partner europei, internazionali da mettere d'accordo. Sì, la candidatura sta procedendo. Chiaramente è un lavoro a più livelli di ambito istituzionale, con il nostro Ministero della Cultura, ma con altri quattro ministeri, ricordiamo, della cultura di Cipro, della Croazia, del Belgio e della Francia, e poi un lavoro di una rete internazionale di giochi e sport tradizionali, che ha un po' la forza e la storia anche di Associazione Giochi Antichi, che sta giorno per giorno seguendo questa candidatura. L'orizzonte, se non è la fine del 2021, per il 2022 dovremmo avere il risponso. Verona, insomma, è pronta a tornare a giocare? Sì, ce l'auguriamo. È un lavoro. Penso sempre a tutte le persone che stanno lavorando a fianco a noi, giorno per giorno, ai tanti volontari, allo staff. Ricordiamolo, sono centinaia e centinaia, per cui non è più un gioco questo, questo è un gioco molto serio e ce la stiamo mettendo tutta e devo dire che la città ogni volta risponde in maniera molto forte. Parlo anche dal punto di vista di tutti i partner, che sono quasi 130, che sostengono l'iniziativa.